Comunque abbiamo fatto bene a trasferirci a Napoli Ho sognato un numero Cioè qualcosa che corrisponde a un numero Johnny sei un genio Ma come ti è venuto in mente? Hai ragione, non so cosa mi sia preso Vi devo far vedere una cosa Cioè capitano tutte a noi? Sicura, sicura Ma siete sicure? Allora, Bruno? Abbiamo fatto un buco nell'acqua Non credo che abbia senso tutto questo Io credo che si tratti di uno schema Non dovevi farlo Come se mi nascondessi qualcosa Ma che ho detto? Questa donna potrebbe essere in pericolo E poi si tratta di persone sveglie Staranno molto attenti Comunque Gianni non me lo sarei mai aspettato da parte tua E faresti meglio non parlarne con nessuno? Non ci credo Ma si può sapere cosa hai sentito? La sì è più ha sentito